Ciao, quello di oggi è un video particolare che vorrei dedicare ai miei coetanei o anche a quelli un pochino più anzianotti di me che ad un certo punto della loro vita decidono, vogliono, devono incominciare a studiare il tedesco oppure desiderano riprendere in mano questa lingua che magari avevano studiato quando erano a scuola o più giovani. Perché ho deciso di farlo? Perché sostanzialmente la maggior parte dei video su questo canale sono dedicati a studenti quindi persone che sono abituate in teoria a studiare, quindi ad avere a che fare con uno studio sistematico a ripassare determinati argomenti o proprio ad avere a che fare con una lingua straniera proprio perché queste lezioni erano nate per i miei allievi del liceo linguistico durante il lockdown. Però, oltre a insegnare nelle scuole pubbliche, collaboro da più di dieci anni con delle scuole private dove la maggior parte, direi quasi un 80% dei miei studenti, sono adulti. Siccome non si parla molto spesso dell'adulto che vuole partire da zero o riprendere lo studio di qualcosa vorrei fare proprio questo video dedicato dove in base alla mia esperienza di docente, in base al buon senso in base anche ai feedback che ricevo dagli allievi cercherò di dare i consigli più pratici ed efficaci possibili per studiare o riprendere il tedesco. La prima cosa da cui vorrei partire è la motivazione ovvero psicologicamente parlando tutto ciò che dà scopo a un comportamento in questo caso il comportamento è riprendere o iniziare a studiare tedesco quando tengo le lezioni quindi per gli adulti io non so mai la loro motivazione e quindi una delle prime domande che faccio è perché vuoi studiare tedesco? anche perché poi devo capire come muovermi e su cosa puntare e quali strumenti utilizzare le motivazioni sono sostanzialmente due passione e obbligo allora quando qualcuno è mosso dalla passione direi che è la situazione ottimale e più facile in assoluto per entrambi sia per me come docente sia per l'allievo perché è la passione che muove tutto nella vita in questo caso può essere che tu ti sei innamorato proprio della lingua tedesca per quanto risulti difficile, dura magari è proprio questo che ti piace il fatto che sia una lingua difficile, impegnativa sapere che stai per imparare un qualcosa che non tutti riescono a metabolizzare oppure ti piace il suono, ti piace come scritta, ti piace leggerla, ti piace vederla magari oltre alla lingua sei mosso dalla passione per i luoghi e la cultura o anche la letteratura hai letto le affinità elettive di Goethe e ti piacerebbe leggerle in lingua originale sei stato a Vienna e ti sei innamorato dell'atmosfera hai vissuto per poco tempo in una città tedesca e ti è piaciuta la cultura, ti è piaciuto il modo di vivere dei tedeschi oppure, e questa è proprio la situazione più che ottimale hai conosciuto una persona di cui ti sei innamorato e questa persona è tedesca in questo caso non solo hai una motivazione meravigliosa ma hai anche qualcuno con cui poterti esercitare può essere anche che la tua sia una passione mai soppita quindi magari hai studiato tedesco quando eri al liceo poi hai smesso per motivi di lavoro perché hai deciso di fare tutt'altro nella vita però ti è sempre rimasto un po' quel tarlo di riprenderlo prima o poi in questo caso non ho troppi consigli da darti perché la passione muoverà ogni tuo gesto, ogni tuo studio, ogni tuo pensiero e quindi da questo punto di vista parti già con un grandissimo entusiasmo quindi goditi il percorso la situazione più difficile da adulti ovviamente se devi studiare il tedesco per obbligo obbligo cosa intendo? magari non ti sposi dall'Italia ma sei tra virgolette costretto a studiarlo perché hai a che fare magari con dei clienti tedeschi oppure lavori in un'azienda tedesca in Italia o per un qualsiasi motivo devi saperlo altro caso e qui la velocità di lavoro è fondamentale hai un trasferimento in un paese di lingua tedesca probabilmente per lavoro o per stile di vita non lo so però devi ovviamente saperlo per poter sopravvivere in un contesto di lingua tedesca oppure possono esserci tantissime altre necessità che non ti danno possibilità di scelta allora magari non hai passione per le lingue non ti sono mai piaciute non ti piace nemmeno aver dovuto studiare l'inglese trasferirti in Germania non era nei tuoi piani oppure qualsiasi altra cosa in questo caso è molto più difficile perché ovviamente non hai scelto tu di studiare il tedesco cosa faccio e cosa ti consiglio di fare? la passione per la lingua e il luogo e la cultura potrebbe anche venirti fuori proprio con lo studio o dopo il trasferimento per iniziare però punta sul pratico ovvero va bene la grammatica, vanno bene le costruzioni però solamente finalizzate al fatto di farti parlare correttamente di solito in questi casi io punto su dei frasari molto utili, molto facili però con un livello buono di tedesco quindi impara le frasi anche a memoria che ti possono servire per sopravvivere se devi cambiare città procurati e ne trovi tantissimi in giro su youtube oppure proprio nel web frasari adatti al tuo tipo di lavoro perché ovviamente come in italiano anche in tedesco ci sono parole specifiche per il tuo lavoro procurati dei modelli di lettere commerciali già pronti cerca di sentirti sicuro con un lessico di base l'idea che il tedesco non sia il tuo fine ultimo ma sia un mezzo per farti stare meglio quindi vivere meglio in una città tedesca oppure per riuscire meglio nel tuo lavoro ti può aiutare a prenderla un pochino più serenamente quindi punta sul pratico poi come ti dicevo prima non è detto che tra te il tedesco non nasca un amore o almeno una serena convivenza il secondo grandissimo problema che potresti trovare studiando tedesco da adulto è la grammatica il tedesco è una lingua molto grammaticale si va bene tutte però se in tedesco non sai bene la grammatica a meno che come dicevo prima tu non impari delle frasi a memoria è molto difficile comunicare mentre in inglese purtroppo anche parlandolo molto male riesci a sopravvivere con il tedesco no perché se non dici le frasi giuste a livello grammaticale praticamente non dici niente già solo per chiedere chi devo decidere su usare ver, wem, wein, eccetera eccetera comunque uno dei problemi più grandi che mi trovo ad affrontare quando insegno tedesco agli adulti non tutti ovviamente è il problema della grammatica di base cosa vuol dire? la prima cosa che ci tengo a dire fortemente è che non ha nulla a che fare con l'ignoranza di una persona ho avuto studenti adulti coltissimi che parlavano un italiano praticamente perfetto ma quando iniziavo a parlare di pronome indefinito apposizione del soggetto o periodo ipotetico dell'irrealtà che fa un po' X-Files vedevo il loro turbamento nel senso che capivo che non capivano cosa mi stessi riferendo questo mi capitava soprattutto all'inizio perché è molto semplice perché lo studio teorico della grammatica analisi logica, analisi grammaticale, analisi del periodo non si usa nella vita normale ripeto, persone che parlavano parlano benissimo in italiano ma che non saprebbero analizzare una loro frase ma sinceramente poi dopo credo che la cosa importante sia parlare bene e correttamente sì, ovviamente anche scrivere, ovvio però ecco quando si insegna una lingua soprattutto appunto agli adulti dare per scontato che tutti sappiano queste cose che normalmente noi insegnanti utilizziamo praticamente tutti i giorni tutto il giorno quindi siamo allenati le conosciamo dare per scontato o giudicare qualcuno perché non le sanno non l'ho mai trovato una bella cosa e qual è stato il problema di questo modo di pensare di molti insegnanti che spesso gli adulti non chiedono quindi magari appunto non capiscono cos'è non sanno cos'è un pronome indefinito ma non te lo chiedono e quindi magari vai avanti mezza lezione a spiegare parlando di una cosa che di base ha creato solo confusione nella mente quindi ecco quello che vi posso consigliare è se state studiando da soli andarvi a riguardare un pochino la grammatica italiana di base per aiutarvi a imparare una lingua straniera in questo caso il tedesco che ripeto si basa moltissimo sulla grammatica se state facendo un corso o prendendo delle lezioni non abbiate timore a chiedere posto che di contro secondo me un insegnante di lingua soprattutto quando ti insegna la lingua base certe cose è tenuto a saperle se fai solo conversazione magari con un madrelingua assolutamente no perché lì vai a lavorare su altre cose ma all'inizio quando stai creando la tua struttura grammaticale penso che sia importante che certe cose ti vengano spiegate e purtroppo l'unico modo per esercitare la grammatica è esercitare la grammatica quindi esercizi anche semplici finché non li hai interiorizzati passiamo ora alla questione proprio più pratica che più pratica di così non si può ovvero gli strumenti che un adulto può utilizzare allora quando un ragazzo va a scuola ovviamente ha tutti gli strumenti che vuole a disposizione ha la scuola gli insegnanti i libri che gli vengono consigliati gli esercizi i compiti eccetera e soprattutto ha un bel po' di tempo un bel po' di energia a disposizione quando sei un adulto inevitabilmente il tuo tempo libero si restringe incredibilmente allora il tedesco si può imparare in modo autonomo sì si può ma è molto 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 più faticoso e ci si impiega molto molto più tempo quindi io consiglio sempre se ne avete la possibilità fate un breve corso di tedesco per iniziare o per riprenderlo perché dovete capire bene come partire come impostare il vostro studio e anche su cosa lavorare perché ogni lingua straniera ha delle difficoltà particolari non solo per un nativo parlante un'altra lingua ma anche per la persona stessa perché ognuno ha delle caratteristiche particolari in alternativa o cosa che consiglio sempre in aggiunta ci sono moltissimi canali su youtube per imparare il tedesco non solo il mio ovviamente ma ce ne sono molti molti altri anche fatti proprio in lingua originale quindi da tedeschi per stranieri in generale non solo per italiani cercate di sfruttare internet il più possibile perché sostanzialmente le cose che trovate sono gratuite la maggior parte allora io ho 40 anni e già qualcosina su internet si riusciva a fare quando ero più giovane se ci sono persone un po' più vecchie di me magari il fatto di utilizzare internet per studiare qualcosa è un concetto un pochino strano però se state guardando questo video in teoria no e quindi vi consiglio di sfruttare utilizzare tutto quello che trovate nel mio precedente video ad esempio consigliavo alcune serie televisive sia per imparare che per approfondire lo studio del tedesco però ecco so anche chi preferisce utilizzare il cartaceo utilizzare i libri lo so anch'io anch'io sono di questa idea ma cercate di unire le due cose quindi sia vecchio stile libri ma anche queste cose queste nuove tecnologie chiamiamole così sempre parlando di tecnologie ci vengono in aiuto anche le app se provi a digitare su google app per imparare le lingue ne troverai moltissime sono sia a pagamento che gratuite quindi come aiuto sono ottime ad esempio molto carina e gratuita è duolingo e mi piace perché le sessioni durano veramente poco ed è un po' come un giochino perché poi sblocchi i vari livelli le trovo molto utili quando hai quei 5-10 minuti inutili tipo non so stai aspettando il tram aspetti l'amico in ritardo io potrei imparare il cinese mentre aspetto gli amici in ritardo quindi scaricatevi una o due app che possono sempre essere utili l'ultimissimo grande consiglio che do agli adulti che al contrario degli studenti sempre in teoria non hanno questo problema perché un po' per colpa nostra un po' perché devono e lo studio è abbastanza costante normalmente delle lingue però da adulti è molto più difficile quindi il mio consiglio ma l'avete visto e capito è essere costanti allora è meglio fare un quarto d'ora 20 minuti al giorno di studio di una nuova lingua piuttosto che fare tre ore la domenica pomeriggio e poi non fare più nulla per una settimana veramente la costanza purtroppo e lo dice una persona che non è costante per niente perché la costanza non è una delle mie caratteristiche principali però è l'unico modo per riuscire a imparare bene una lingua come il tedesco quindi un po' ogni giorno poi questa è una delle cose fondamentali che purtroppo nessun video su youtube nessun'app nulla può fare al posto tuo devi parlare la lingua quindi o lo fai durante un corso o lo fai con un madrelingua o ti registri ma devi sentire il suono della tua voce mentre parli in tedesco questo è veramente fondamentale cambia le cose magari e poi te lo tieni per te privato fatti un breve video mentre leggi o parli in tedesco guarda bene la posizione della tua bocca della tua lingua la tua espressione guardati bene ascoltati i primi tempi avrai uno shock ma vedrai quanto ti è utile e soprattutto se tieni questi piccoli video filmati o registrazioni poi man mano che studi vai a rivederteli e così vedi da solo quanto sei migliorato tornando al primo punto quindi la motivazione ovvio che se lo fai per passione ti viene anche più facile spontaneo fare qualcosina tutti i giorni fare queste piccole accortezze per migliorare la lingua capisco che se lo fai per obbligo è più difficile però pensa che tutto questo ti serve per semplificarti la vita e poi anche se non ti piace il tedesco anche se non ti piace dove stai andando non ti piace quello che stai facendo è comunque un qualcosa in più che stai facendo per la tua formazione personale e non sai mai quando le cose ti possono poi servire in futuro credimi quindi è soprattutto a te che lo fai per obbligo e non per passione che do l'ultimissimo consiglio non scoraggiarti e anche questo ho detto da una persona io che si scoraggia a seconda di come cambia il vento veramente però la forza di volontà è un allenamento anche qui credimi più l'alleni più pian piano ti accorgi che in ogni ambito della tua vita riesci a portarla avanti ora non volevo fare un video di coaching motivazionale perché non è il mio lavoro e non sono neanche le mie intenzioni volevo fare un po' una chiacchierata appunto come ho detto all'inizio con i miei coetanei per aiutarli un pochino nello studio del tedesco che comunque rimane una lingua difficilissima ma molto molto bella quindi se c'è qualche regola che vuoi ripassare se vuoi seguire qualcuna delle mie lezioni complete iscriviti al mio canale e bis bald Grazie.